Comune di Figlini in Cisavaldano proseguono celermente i lavori di Publiacqua per la rete idrica, lavori importanti che però impongono al traffico delle modifiche importanti. Sindaco, ne vogliamo parlare facendo magari la sintesi di queste modifiche dal 2 maggio in poi, vero? Sì, finalmente possiamo dire che si va a concludere l'intervento sul primo tratto di rifacimento dell'acquedotto, che era quello che interessava Corso Matteotti. Questo intervento terminerà come previsto dal cronoprogramma entro il 30 aprile e dunque a seguito della conclusione dell'intervento sarà possibile far partire anche la ZTL. Il secondo tratto di intervento sarà il tratto breve di Corso Mazzini da Piazza Bianchi ad arrivare fino alla nostra Piazza Marsiglio Ficino. Quando sarà chiuso il tratto breve di Corso Mazzini partirà la ZTL che prevederà il seguente orario, cioè dalle ore 20 alle 24 sarà chiuso il centro storico a partire da Corso Matteotti, mantenendo quest'area tutta completamente chiusa, soprattutto per le passeggiate sterali che molti nostri concittadini vanno a fare nel nostro centro storico. Successivamente, a conclusione invece dell'intervento sul tratto breve di Corso Mazzini, dopo il 2 giugno partirà invece la ZTL completa, quando appunto si andrà ad intervenire sul tratto lungo di Corso Mazzini per un paio di mesi, ci sarà la possibilità di avere una ZTL addirittura anticipata dalle ore 17, che prevederà la pedonalità del centro della piazza, come l'abbiamo sempre conosciuta, e la percorrenza dei tratti brevi della piazza, quindi di fronte alle collegiate e alle loggie del grano, perché in quel momento sarà aperto sia il tratto corto di Corso Mazzini, sia il tratto di Corso Matteotti. Quindi la possibilità di accesso rimarrà alla piazza fino alle 20. Poi dalle 20, anche dal 2 giugno, si chiuderà Corso Matteotti dalla cima del Corso appunto fino ad arrivare alle 24. Anche questo per permettere la vita notturna della nostra piazza, che solitamente è molto viva e vivace nel periodo estivo. Quest'anno i lavori ci obbligano a fare una rivisitazione completa della ZTL, fino ad arrivare alla sua conclusione, che quindi nel mese di agosto è previsto appunto possa ritorrarsi, tornare la viabilità come l'abbiamo conosciuta sul nostro centro storico, riportando la viabilità originale precedente ai lavori. Siamo contenti di questo intervento di Publiacqua, perché sono 300 mila euro investiti sul nostro centro storico per rifare completamente il sistema acquedottistico. Molte case avevano difficoltà ad avere l'acqua, soprattutto nei periodi estivi, c'erano lunghi periodi in cui non si riusciva ad avere l'acqua nelle proprie abitazioni, e credo sia importante dare una risposta così significativa col completo rifascimento dell'acquedotto, anche se ovviamente tutti i lavori portano qualche disagio, quindi bisogna un po' stringere i denti. Ringrazio della pazienza le attività commerciali residenti che stanno sopportando il cantiere.